Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sull'A1, due chilometri di coda per veicolo in avaria tra Calenzano e BV1 variante verso Bologna. Carreggiato opposta, coda di un chilometro per lavori tra Valdarno e Monte San Savino. Per traffico inoltre, coda a tratti verso sud tra Badia e Aglio e tra Aglio e Calenzano. Sempre in A1 segnaliamo che fino alle 18, per lavori, è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'A1 direttissima, località Baccheraia e Rioveggio in direzione di Bologna. Chi è diretta a Bologna deve percorrere l'A1, Milano-Napoli direttissima. Ci spostiamo sulla Firenze Mare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, 3 chilometri di coda tra BV11, Firenze Nord e Firenze Peretola e coda a tratti tra Pistoia e BV11 e A1. Tutto verso Firenze. In FIPILI per interventi di miglioramento della sicurezza, rallentamenti tra Montelupo e La Strassigna verso Firenze. Trovino oltre un chilometro di coda per incidente tra BVOSGC FIPILI di Ramazione Pisa e Ponte d'Araove Sponsacco verso Firenze in carreggiato apposta a coda in uscita a San Miniato. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.